Da anni ormai l'amministrazione continua a ricevere le mie mail per quanto riguarda questo problema che affligge la via Palogili. Sono presenti questa sorta di contenitori, di recipienti in cemento, che chiaramente col passare degli anni hanno creato un documento alla cittadinanza. Adesso ci siamo attivati noi stessi per cercare di porre rimedi a questa situazione. Abbiamo cercato di raccogliere quantomeno l'immondizia che viene gettata all'interno di questi contenitori. Però ripeto, la situazione è più sostenibile e speriamo che l'amministrazione si attivi il prima possibile per porre finalmente un rimedio e mettere un punto a questa situazione. Sono un residente, abito proprio in questo palazzo e Marco Fiducci è il mio consigliere stapolunico che in due anni ha fatto attenzione a questo disagio che noi viviamo ogni giorno. E quindi marciapiedi tutti rotti, dissostati, immondizia dentro questi contenitori di cemento ed è veramente una situazione invivibile. Noi stessi dobbiamo premurarci con sacchetti, guanti a togliere questa immondizia, cacca di cani, bottiglie rotte. Ci sono anche bambini e qua la situazione è veramente insostenibile. Chiediamo assistenza più presto, visto che siamo qua vicino il cantile della Zisa. Noi stessi dobbiamo fare la situazione.